Il mercoledì dei recuperi nel girone C di Serie C regala un punto a testa per le tre pugliesi in campo. Finisce 1-1 il derby tra Biceglie e Monopoli, punteggio identico a Vibo Valencia per il Foggia. Delusione e ramaico, soprattutto tra i rossoneri e i biancoverdi, con entrambe le squadre incapaci di mantenere il vantaggio iniziale. Marchionni si aspettava una prestazione diversa dopo il pareggio contro la Virtus Francavilla, ma il Foggia che scende in campo in Calabria era chiuso tutto nei primi 8 minuti. Dopo il gol che illude i satanelli, la Vibonese prende in mano la partita, pareggia e sfiora più riprese il successo, un rischio che il tecnico rossoneo non avrebbe voluto correre. Un ottimo punto perché comunque qui contro la Vibonese è dura giocarci perché secondo me è un'ottima squadra. Potevamo far meglio perché si è riusciti ad andare in vantaggio subito nei primi minuti, però lì è come se la squadra si fosse spenta, non abbiamo creato più nulla dopo il gol, quindi non è la prestazione che volevo, diciamo ci prendiamo il punto perché è importante da continuità, però sotto l'aspetto della prestazione non ci siamo stati. Tanti rimpianti anche in casa Monopoli, che a Francavilla Fontana pareggia contro un Biceglie mai d'uomo. Il gol di Cittadino premia Nerazzurro Stellati e punisce Biancoverdi, in vantaggio con il gol di Zambataro, ma beffati negli ultimi secondi di partita. Scienza non nasconde rammarico per la mancanza di lucidità fino al fischio finale. Tutti i ragazzi si sono mossi bene, con un buon atteggiamento sia fisico che mentale, che poi dal punto di vista tecnico-tattico. Siamo stati forse poco incisivi negli ultimi 20 metri nel primo tempo perché abbiamo costruito tantissime azioni. Poi nel secondo tempo la partita è diventata un po' più nervosa, ma l'avevamo sbloccata, avevamo secondo me il totale dominio della partita, abbiamo la partita in mano. Nell'ultimo quarto d'ora loro giustamente l'avevano messa sulle palle lunghe e bagare, noi non siamo riusciti a gestire i tempi di gioco ed è allucinante il modo in cui abbiamo preso il rigore a 5 secondi alla fine, per come si è sviluppata l'azione, per come si è protratta l'azione loro, per come l'abbiamo concluso con l'ultimo intervento. Ci è mancato un po' di lucidità. E' soltanto il Bicelli a sorridere. Un'altra reazione d'orgoglio della squadra di Bucaro, che già Pagani aveva sofferto, lottato e conquistato un punto nel finale. Lo spartito non cambia nemmeno a Francavilla Fontana, con i tifosi che manifestano sui social la soddisfazione per la prova di carattere messa in campo al Giovanni Paolo II. Proprio per il momentaneo esilio in terra messapica, la dirigenza nerazzurro stellata ha ringraziato la Virtus Francavilla per l'ospitalità, una nota ufficiale di garbo e rispetto che rende orgoglioso un ambiente bicegliese spesso bistrattato fino alla scorsa stagione. Sicuramente è una squadra che non molla mai, che mette cuore in tutto quello che fa perché al di là del pareggio, diciamo allo scadere, ha cercato di fare sempre la partita, di giocarsela a viso aperto comunque contro una squadra importante per la categoria.